Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Il Vangelo di questa domenica ci permette di soffermarci su due punti decisivi per il nostro cammino di fede. Chi è Gesù per me? Cosa significa seguirlo? Vediamo un po'. Gesù è in cammino con i discepoli e a un certo punto pone una domanda. La gente, chi dice che io sia? I discepoli riportano ciò che dice la gente, ma a Gesù non basta. A lui non interessa quel che dicono gli altri o che si risponda con formule preconfezionate, perché come ha detto bene il Papa, una fede che si riduce alle formule è una fede miope. Gesù vuole con ciascuno di noi una relazione personale, perciò interpelle i discepoli dicendo, ma voi chi dite che io sia? Lasciamo risuonare nel cuore questa domanda. In fondo è la domanda dell'innamorato. Chi sono io per te? Che posto ho nella tua vita? Ciascuno di noi dia la sua risposta. Una risposta alle cui sfumature possono anche variare a seconda del momento che stiamo vivendo. Forse per qualcuno la risposta è tu sei il mio Signore. Per qualcun altro che magari è nella sofferenza è tu sei la mia forza, tu sei la mia unica speranza. Magari per qualcun altro la risposta non è così scontata o quantomeno un po' sbiadita. Ecco, scendiamo nel cuore, lasciamoci interpellare e diamo la nostra risposta. In fondo, miei cari, è dalla risposta a questa domanda, che dipende la qualità della nostra fede e al contempo, è come viviamo che fa capire qual è la risposta a questa domanda. Ora, Pietro, ispirato dallo Spirito Santo, azzecca la definizione. Tu sei il Cristo, il figlio di Dio, ma questa espressione dovrà capirla passo dopo passo. Per questo Gesù, dopo aver intimato loro il silenzio, inizia a spiegare che egli dovrà essere consegnato, patire, morire e poi risorgere. Pietro, davanti alla spiegazione di Gesù, non ci sta, lo prende in disparte e lo regge. Non sia mai, signore, tu non morirai della serie, vieni qui, ti insegno io a fare Dio. E Gesù, dandogli le spalle, con un rimprovero enorme, uno sciampo solenne, gli dice, mettiti dietro a me, Satana, perché ragioni secondo gli uomini, ma non secondo Dio. Come a dire, non sono io che devo seguire te, ma tu vieni dietro a me. Perché? Mi cari, questa incomprensione di Pietro è preziosissima. Ci mostra la distanza tra i nostri ragionamenti e la verità di Dio, e dunque la necessità di passare da un pensiero troppo umano a un pensiero secondo lo Spirito Santo. Vedete, Pietro voleva bene a Gesù, voleva evitargli la sofferenza, e possiamo capirlo bene, no? Quante volte anche noi, davanti a una persona a cui vogliamo bene che soffre, preghiamo di poterci prendere noi quel dolore, ma il problema di Pietro è più profondo. Cioè Pietro ha un'idea sbagliata su Gesù, ha delle attese troppo umane. Vedete, al tempo di Gesù si attendeva la venuta del Messia, il liberatore. Nei vari gruppi del giudaismo, ognuno tendeva a vederlo un pomodo suo. L'idea più diffusa era quella di un uomo che avrebbe liberato il popolo di Israele dal dominio dell'impero romano, e avrebbe instaurato un regno politico, portando benessere a tutti. L'idea di fondo di Dio era dunque un'idea molto umana, di un Dio potente che avrebbe sbaragliato i nemici, avrebbe instaurato un regno di benessere. L'atteggiamento di Pietro nasce da queste aspettative umane, aspettative che Gesù dovrà correggere, fargli scoprire il vero volto di Dio che si rivela proprio in lui, un Dio appassionato, innamorato, che muore d'amore per noi, che fedelmente si consegna fino alla fine. Abbiamo qui, miei cari, la necessità di lasciarci purificare nel modo di vedere Dio e di leggere la realtà. Ecco perché abbiamo bisogno di un contatto frequente con la parola di Dio, con l'insegnamento della mamma chiesa, di entrare in una intimità sempre più forte con il Signore. Innanzitutto perché siano purificate le nostre idee su di lui. Ricordo una persona a me cara che stava vivendo un momento molto difficile, tante sofferenze una dietro l'altra, aggravate però da una cosa, pensare che Dio la stesse punendo, che fossero castighi di Dio. Nel dialogare con lei e nel camminare nella fede, lei iniziò a comprendere che non era così, che il Signore era lì con lei, che la amava, che la sosteneva, che affrontava queste difficoltà insieme a lei, che erano le sue occasioni per crescere nell'amore di Dio e per gli altri. Ecco, lasciarsi evangelizzare nel modo di pensare Dio e di conseguenza nel modo di leggere la realtà. Quante volte noi non accettiamo il reale in nome dell'ideale che abbiamo in testa e lottiamo contro la realtà perché non la accettiamo? Pensiamo di sapere meglio di Dio come sarebbero dovute andare le cose o ci fermiamo ad una lettura negativa, parziale, mondana dei fatti e magari rimaniamo bloccati lì, rimuginando per anni, continuando a chiederci perché a me? Ecco, ricordo una persona anziana di fede che a questa domanda rispose, e perché non a me? Quante volte il problema non sono tanto i fatti in sé, ma come li leggiamo, come li vediamo? Ecco perché abbiamo bisogno della luce di Cristo, della sua parola, della sua presenza, capace di illuminare di senso anche il nostro non senso, capace di infondere vita anche in quelle situazioni nelle quali apparentemente non c'è vita. Scoprire anche lì la possibilità di un bene più profondo, più vero, più limpido, un bene più grande. Ma perché tutto ciò possa accadere nella nostra vita? Ecco l'importanza del secondo punto, capire cosa significhi seguire Gesù. Egli stesso ha detto, se uno mi vuol seguire, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Anzitutto, rinneghi se stesso. Il verbo greco significa smentirsi, decentrarsi. Centrarsi. La psicologia moderna direbbe desintonizzarsi dal proprio ego. Gesù l'aveva detto chiaramente già duemila anni fa. Se vuoi seguirmi fino alla risurrezione, se vuoi davvero imparare ad amare, se vuoi davvero diventare una persona libera, smettila di assolutizzare le tue idee, le tue convinzioni. Decentrati. Sii disposto a lasciarti insegnare da me l'arte di vivere e di amare. Un cristiano, in fondo, è colui che nelle piccole come nelle grandi scelte di ogni giorno cerca di chiedersi, ma tu signore cosa vuoi da me? Tu al mio posto cosa avresti scelto? Purtroppo vi sono persone ermetiche che si lasciano scivolare addosso le parole del Vangelo. Come se le scelte di vita fossero una cosa e il Vangelo fosse un'altra. Hanno ridotto la fede a una serie di pratiche religiose per sentirsi in pace con la propria coscienza. Ma così la vita non cambia, così non si segue Gesù. Ecco ricordo due persone praticanti che dialogavano e si confrontavano su un fatto. Ad un certo punto l'una disse all'altra secondo me sarebbe bene questo perché il Vangelo ci dice così e l'altra risponde mo che c'entra il Vangelo con la vita di ogni giorno. Ecco miei cari, questo è il problema, che il Vangelo c'entra con la vita di ogni giorno. Se vogliamo davvero diventare santi, se vogliamo davvero imparare ad amare, dobbiamo lasciare Gesù il volante della nostra vita, non ridurlo a una sorta di deodorante per l'ambiente. E Gesù continua, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Anche qui dobbiamo purificare l'immagine doloristica. Qui Gesù non sta dicendo chi mi vuol seguire soffra ogni giorno. Gesù sta dicendo prenda la sua croce, prendere positivamente, non solo accettarla o subirla. Cosa vuol dire? Vuol dire accogliere la vita, la quotidianità con tutte le sue chiamate ad amare. In primis quelle legate alla nostra vocazione. Si tratta di affrontare positivamente le cose di ogni giorno, sfruttandole come occasioni per crescere. Ad esempio, a volte simpaticamente si dice che la moglie o il marito sono una croce. È vero, ma in che senso? Che il marito o la moglie è lo strumento che Dio ti ha messo accanto perché tu impari ad amare, che con la sua diversità ti mette in discussione, ti chiama a uscire da te, ti chiama a crescere. Altri dicono questa malattia è una croce. È vero, ma non solo nel senso che mi fa soffrire, ma nel senso più profondo che lì puoi unirti a Cristo, puoi incontrare Lui, puoi offrirti insieme a Lui per la salvezza di tanti. Noi cristiani prendiamo la croce, la valorizziamo non perché è bella in sé, ma perché lì ci uniamo a Cristo, lì abbiamo l'occasione di crescere, lì si impara ad amare. E allora, se prendiamo la croce, scopriremo quanto sono vere le parole successive di Gesù. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi la perderà, per causa mia e del Vangelo, la salverà. Perde la propria vita chi vive centrato su di sé, la salva chi sa consegnarla nelle mani di Cristo, chi si abbandona a Lui, chi si lascia insegnare ad amare da Lui. Ricordo una piccola storia, semplice ma significativa, che rende bene l'idea. Vi era nel giardino del re una bellissima canna di bambù. Era la più grande, la più bella, e il suo grande sogno era rendere felice il re. Un giorno il re le si avvicinò e le disse mia cara. Avrei bisogno di te. Eccomi, maestà, dimmi. Come posso dare gioia ai tuoi occhi? Guarda, prima di tutto avrei bisogno di sfrondarti. Sfrondarmi, disse la canna, ma poi la mia bellezza e il mio aspetto. Non solo, avrei anche bisogno di tagliarti. Tagliarmi? Ma maestà, poi la mia forza, come potrò poi crescere? Non solo, avrei anche bisogno di svuotarti. Ma maestà, e così facendo, a che servo? Mia cara, ma tu vuoi servirmi? Sì, mio re, eccomi, si è fatta la tua volontà. E il re la prese, la sfrondò, la tagliò, la svuotò, e poteva utilizzarla per collegare un rivolo d'acqua ad un terreno lì vicino, dove i fiori e le piante stavano morendo d'arsura. Ecco il punto. Perdere quella misera vita che ruota attorno al proprio ego e trovare la vita di Cristo, quella vera, quella piena, che è più forte del dolore, del rifiuto, che vince la morte stessa davanti a tanta bellezza. Come potremmo tenere in pugno ciò che siamo? Apriamoci alla fiducia, apriamoci al dono generoso di noi stessi. Guardiamo a Cristo, guardiamo alla vita dei santi, che in fondo ci gridano, ne vale la pena. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.